rinnovo il benvenuto a tutti da parte dell'ufficio diocesano catechistico diocesano di roma per questo corso inizio del corso informazione permanente sul tema la preghiera e passo la parola a don andrea il nostro direttore buonasera a tutti benvenuti ringrazio per la partecipazione a questo corso un corso di formazione permanente per catechisti segue il corso di formazione base per catechisti che facciamo da settembre a dicembre dopo natale il periodo questo periodo dell'anno fra natale e pasqua sempre dedicato alla formazione permanente che ogni anno cambia come tema mentre il corso base è sempre lo stesso proprio perché è una introduzione generale all'essere catechisti in particolare all'essere catechisti dell'iniziazione cristiana invece il corso di formazione permanente ha un tema che varia per esempio l'anno scorso riguardava il kerigma ci sono stati corsi su documenti importanti per la catechesi su documenti sulle encicliche del papa quest'anno però quando abbiamo pensato insieme come equip dell'ufficio quale fosse il tema più importante di cui parlare abbiamo proprio molto tutti molto d'accordo abbiamo detto che questo tema era la preghiera perché perché facendo proprio corsi di formazione con catechisti ci rendiamo conto che spesso la questione del educare alla preghiera dell'insegnare a pregare ai bambini ai ragazzi insomma le persone che ci sono affidate dalla catechesi nella catechesi è qualcosa che mette un po in difficoltà i catechisti mentre è molto semplice ovviamente insegnare le preghiere più difficile insegnare a pregare allora questo corso che facciamo vorrebbe proprio aiutarci a fare questo cioè a comprendere che cosa voglia dire imparare a pregare e come quindi anche come catechisti possiamo aiutare gli altri a imparare a pregare poi non so se la preghiera è qualcosa di strettamente insegnabile o se si può parlare proprio di insegnare la preghiera però certamente si può aiutare a pregare aiutare a scoprire la preghiera no aiutare a fare esperienza della preghiera ecco forse un po questo è il il compito del catechista aiutare le persone a fare esperienza della preghiera pregando insieme solo che questo presuppone che il catechista sappia pregare allora abbiamo detto che quest'anno facciamoci un ripasso della preghiera sapete che la preghiera è una delle quattro parti fondamentali del catechismo della chiesa cattolica è uno dei quattro pilastri della vita cristiana la vita cristiana è fatta di ascolto della parola di celebrazione dei sacramenti di vita comunitaria e di preghiera diciamo nella formazione catechistica quindi si dedica un po di spazio a ciascuna di queste quattro colonne della della fede perché essere catechista vuol dire introdurre gli altri all'ascolto della parola introdurre alla celebrazione dei sacramenti introdurre alla vita comunitaria introdurre alla preghiera e ovviamente può introdurre un altro solo chi già padroneggia quella che è l'esperienza alla quale vuole inserire la quale vuole introdurre gli altri bene dunque abbiamo chiesto di aiutarci in questo corso a una una persona che che abita a roma che vive possiamo dire nel cuore di roma perché abita proprio al centro e che è suor fulvia sieni suor fulvia è la priora del monastero dei santi quattro coronati immagino che molti di voi conoscano il monastero è un monastero sul monte celio proprio nel cuore di roma un'antica fondazione fra l'altro molto bella anche con dei con dei tesori artistici notevoli è un monastero che vive monastero femminile che vive secondo la regola di sant'agostino e quindi un monastero nel centro della città è un po anche un'immagine bella no perché un po proprio il cuore pulsante della città dentro dentro la città ci sta un cuore di preghiera che batte che è quello dei monasteri di clausura e in particolare oggi appunto pensiamo a questo monastero dei santi quattro che oltre a essere un luogo di preghiera è anche un luogo di catechesi di evangelizzazione ci sono tante iniziative anche potete anche insomma guardare anche online trovate delle delle proposte che fanno le sorelle dei santi quattro allora su fulvia ha collaborato già varie volte con con la diocesi in vari ambiti e le abbiamo chiesto se ci appunto se ci aiuta a fare questo corso sulla preghiera quindi terrà lei tutti gli incontri che come forse avete avuto modo di vedere sono incontri abbastanza brevi serali sono incontri di tre quarti d'ora perché pensiamo sia buono diciamo non dedicare tantissimo tempo all'ascolto quanto ricevere degli spunti che ci aiutino a poi a pensare sulla nostra pratica di preghiera quindi l'ideale sarebbe che ascoltiamo insieme l'incontro il giovedì sera e poi diciamo nei giorni della settimana proviamo a vedere a fare caso alle cose che abbiamo ascoltato proviamo noi stessi a pregare gli appuntamenti in presenza che vi diceva di quali quali vi parlava domenico sono l'occasione di mettere in pratica insieme quindi di sperimentare anche una preghiera un po guidata rispetto alla alle cose di cui parleremo qui bene allora adesso lascio volentieri la parola sorful via che ringrazio anticipatamente per la disponibilità che subito con grande generosità ha dato molto entusiasta del tema ne abbiamo parlato diversi mesi fa già cominciando a pensare che cosa potevamo proporvi e quindi sono molto contento che lei sia con noi questa sera e nelle prossime serate pronto mi sentite ok non avevo capito non conosco bene questa piattaforma quindi sarò almeno oggi un po' di confusione anche non riesco a capire vi muovete va bene sarà interessante riuscire a sopravvivere alla tecnologia allora buonasera e a tutti quanti vedo un numero impressionante di partecipanti in questo momento quasi 300 e sono quindi anche un po' emozionata nel senso che sono contenta sono stata è vero subito entusiasta dell'invito di don andrea e adesso magari mi tirerei volentieri indietro perché ehm ecco parlare della preghiera e parlare della preghiera è difficile pregare e scopriremo insieme invece è molto facile vorrei proprio che questo fosse l'obiettivo dei nostri otto incontri sfatare diversi miti sulle complicazioni della vita spirituale della preghiera e godere un po' di dei frutti della vita spirituale che ognuno eh ha ricevuto in dono con il battesimo e noi crediamo che vada semplicemente attivata la vita spirituale eh dentro di noi appunto se è vita e però sono contenta ecco di condividere con tante sorelle vedo molti nomi femminili qualche fratello anche eh questo tratto di strada e ecco la scoperta della preghiera non sono un'esperta di preghiera ecco vorrei eh chiarire questo io sono solo una una donna che prega insieme ad altre donne in una comunità e o meglio che cerca ogni giorno ricomincia ogni giorno eh a pregare e mh perché forse credo nessuno possa essere così chiamato esperto di preghiera siamo tutti mh ecco incamminati mh dentro questa relazione eh con il Signore e a nostro modo ognuno di noi nella vita che facciamo è esperto ecco si può definire così e mh quello che cercherò di fare con voi sarà semplicemente condividere quanto il Signore fin qui mi ha fatto vivere le cose che mh a mia volta ho imparato da maestri e maestre nella fede ecco eh è l'incontro di introduzione quindi eh pensavo di condividere qualche premessa insieme intanto mi piacerebbe mh per ogni incontro consegnarvi una parola mh una parola chiave ecco che con la quale iniziare ad accedere un po' alla vita di preghiera e ehm una parola di Dio per scoprire cosa eh Dio stesso ha da dirci sulla preghiera attraverso le persone che ehm hanno eh partecipato in modi eh talvolta sorprendenti alla storia della salvezza che la scrittura ci rivela ecco ehm quindi mi piacerebbe che questi sei incontri più due che ora dovremo inventare come fare ehm ecco ci lasciassero ehm veramente qualcosa che come dice il Vangelo abbia più la somiglianza di un seme cioè sia qualcosa di piccolo che però eh custodito coltivato mh porti poi frutto a suo tempo ecco intanto penso rivolgendomi così a ognuno di voi che se siete qui mh avete forse ricevuto un invito e il tema forse vi ha incuriosito non credo che ci sia qualcuno che per dovere debba partecipare a questo incontro penso di no e mh credo però che tutti noi abbiamo se siamo qui abbiamo due possibilità o abbiamo provato a pregare e in qualche modo ci è andata male quindi vogliamo sapere qualcosa di più oppure ci è andata bene abbiamo provato un po' di gusto nella preghiera e vogliamo farlo meglio ecco mi sembra che questa sia eh questi siano i due presupposti mh per predisporci proprio all'ascolto diversamente vorrei subito eh sento proprio l'urgenza di dirvi una cosa se siete qui eh perché state cercando un metodo che funzioni eh per farvi pregare e il posto sbagliato eh la nostra mentalità che è tecnica e il nostro approccio eh sempre più funzionale alle cose della vita l'imperativo di questo tempo che ci mette fretta nell'ottimizzare risultati utilizzando mezzi minimi eh che ci fa impostare la destinazione sul navigatore che elabora il percorso migliore per noi ecco eh tutto questo ci porta a pensare o talvolta anche a credere proprio che seguendo minuziosamente delle indicazioni questo sia riproponibile anche nella vita spirituale seguendo i passi di un metodo possiamo provocare l'effetto spirituale desiderato dalla preghiera ecco questo modo di pensare riduce eh ad un livello mh puramente psicologico eh le nostre attitudini interiori quelle più profonde che invece se mh valorizzate se mh guardate bene possono invece accompagnare il movimento spirituale della preghiera quindi mh io potrei dirvi se vi mettete a gambe incrociate a testa in giù eh se adesso assumete una posizione a un ritmo di un respiro e funziona meglio potrei dirvi che se appuntate meticolosamente il versetto del Vangelo ogni giorno e questo farebbe appello alla parte eh ossessiva un po' scrupolosa di qualcuno eh ecco questo ci potrebbe portare a parlare con Dio ad avere eh mentirei ecco la verità è che nulla di quello che fai potrà suscitare la presenza di Dio in te forse può aiutarci e vedremo ehm può aiutarci ad avere una consapevolezza di quella scintilla che già c'è dentro ognuno di noi e e che dovremo imparare a riconoscere ad accogliere e a volte anche attraverso qualche ehm metodo a valorizzare a far crescere dentro di noi ecco e questo io mh credo vada chiarito perché oggi eh imperversano eh anche sui social e eh tanti metodi metodo di meditazione meditazione profonda metodi che eh battezzati in qualche modo eh vorrebbero ecco mh distrarci dalla grazia invece fondamentale che è stata depositata nel battesimo in ognuno di noi che ci eh lavorando insieme a noi insieme al nostro corpo alle nostre forze alle nostre energie ci porta ad una vita di preghiera ad una vita spirituale ad una relazione con Dio nella chiesa con i fratelli e vedremo come ecco e di questo proveremo un po' a parlare nei nostri appuntamenti della preghiera che è già in ognuno di noi è già in te è già eh dentro ognuno di noi molti libri eh partono sulla preghiera no partono insegnando delle tecniche il limite è proprio questo che potremmo assumere due posizioni estreme quelle di chi come sembra che io stia facendo disprezza per principio ogni accorgimento tecnico ogni metodo perché la libertà della preghiera dello spirito io parlo tu per tu con Dio non ho bisogno di niente e oppure l'altra deriva che è di quelli che cadono proprio in una vera e propria idolatria delle posizioni del corpo della meticolosità degli atteggiamenti quel modo un po' manierato che a volte anche nella chiesa è presente che però ecco mh allontana vorremmo dire da ehm dalla preghiera che proprio il catechismo ci insegna ecco eh quindi tenendoci distanti da queste due derive eh vorrei camminare nel medium che è la posizione più scomoda più difficile eh che però mi sembra la più utile ecco e per immergerci nella preghiera l'atteggiamento decisivo è proprio quello di consegnare il nostro desiderio di pregare al signore Gesù che eh e fondendo su di noi lo spirito santo eh ci aiuta ad entrare dentro questa relazione e anche questo vedremo come e perché mh una cosa è molto importante quello che avviene mentre si prega non è mai frutto di una tecnica ma è una grazia che il signore ci fa e da questo punto di vista ehm dobbiamo semplificarci moltissimo con la vera fatica della preghiera è questo processo di semplificazione che vuole attivare e vuole ehm far progredire in ognuno di noi e chi ritenesse che pregare è difficile ecco eh verrà e spero presto smentito dal fatto che invece la questo desiderio che anima la vita eh dovrebbe animare la vita di ogni cristiano è alla portata di tutti ecco e ci sarà poi utile quindi seguire piuttosto considerare alcuni direi piccoli consigli per entrare nella preghiera senza assumerli in modo rigido e come se fossero proprio un preludio per aprire eh la porta allo spirito che mh poi fa quel che vuole ecco si direbbe e mh a proposito di questo ecco diciamo di queste domande che mh dentro di noi mh dentro di voi se vi siete diciamo iscritti a questo corso eh sono sicuramente aperte sulle riflessioni sulla preghiera e volevo proporvi due brevissimi racconti eh se posso e mh uno lo traggo dal dai detti dei padri del deserto ecco gioco un pochino in casa su monachesimo e quant'altro e racconta così un giorno un giovane monaco c'è sempre questa scena no c'è il giovane che va a chiedere all'anziano al maestro eh chiese ad un anziano abbà qual è l'opera più difficile del monaco è forse la vita comune con i fratelli e il padre rispose no figliolo prima o poi gli uomini cattivi per pur cattivi che siano a forza di stare insieme si vogliono bene l'altro riprese allora qual è la castità no figliolo ora la senti come un problema grosso ma la lotta tra qualche anno e la passione si spegnerà allora forse la teologia studiare dio parlare di dio no figliolo lepricola abbà guardati intorno quanti ecclesiastici parlano di dio dal mattino alla sera è tanto facile parlare di dio ma allora abbà dimmi qual è l'opera più difficile per un monaco è pregare pregare dando del tu a dio allora qui mi questo racconto mi contraddice subito no vi ho detto che pregare è semplice arriva questo abba questo padre del deserto e ci dice che è la cosa più difficile del mondo e addirittura per un monaco pregare dando del tuo a dio entrare cosa che è difficile anche per noi eh adulti adultissimi vedo entrare in questa relazione confidente dando del tuo a dio ma mi piace raccontarvi un'altra storia eh che la prendo in prestito da uno di questi autori o Tolstoi o Tolstoi eschi l'attribuiscono diversamente ne trovate varie versioni eh è un racconto semplicissimo ma è anche molto interessante e racconta così un santo vescovo russo decise di visitare l'intera sua diocesi situata sul mar baltico ai confini con la Finlandia venne a sapere che su un'isola sperduta vivevano da anni alcuni cristiani e decise di raggiungerli con la nobile intenzione di evangelizzarli approdato sull'isola il vescovo trovò tre poveri pescatori con le barbe incolte con i vestiti laceri a giudicare da una priva impressione gli parve vivessero di una semplice armonia fatta di aiuto e di concordia il vescovo allora chiese loro come pregassero i tre risposero di non sapere nulla all'infuori di una preghiera che andavano ripetendo insistentemente lungo la giornata voi siete tre noi siamo tre abbiate pietà di noi e state a noi vicino il prelato si prodigò a insegnare ai pescatori le verità fondamentali del catechismo la preghiera del padre nostro fino a fargliela imparare a memoria dopo una settimana di arduo impegno il vescovo si congedò da loro soddisfatto di averli istruiti era già sulla barca a pochi metri dalla costa quando avvertì le voci preoccupate dei tre pescatori che lo richiamavano con ampi gesti per farlo tornare a riva tornato presso di loro il vescovo si rassegnò l'evidenza che i suoi allievi avevano già dimenticato tutte le parole della preghiera appresa nei giorni precedenti per non separarsi da loro lasciando gli inquieti il vescovo assicurò ai tre che non sarebbe stato poi così grave scordare quelle preghiere a eccezione di una invocazione molto semplice ma tra le più efficaci e belle che egli avesse mai udito voi siete tre noi siamo tre abbiate pietà di noi e state vicino a noi allora addirittura questo vescovo che li aveva istruiti avevano fatto tutto il catechismo si arrende ad una a questa semplicità a questa immediatezza della preghiera questa relazione semplice di eh che noi giudicheremo ignorante no questi non sanno niente eppure ecco pregano pregano eh alcune versioni se le cercate in internet che sono più lunghe quindi non potevo ehm raccontarvele raccontano in modo anche più avventuroso il fatto che poi questi tre camminano sulle acque e vanno incontro al vescovo è tutta una bellissima storia allora se noi facciamo fatica a credere che pregare semplice è perché la semplicità è difficile per l'uomo per noi il monaco anziano quello di prima lo sa noi siamo dispersi siamo complicati però ehm ecco teniamola lì come ehm difficoltà della preghiera accettarne la semplicità non è immediato eh ma sappiamo anche che la preghiera stessa vi dicevo è una via di semplificazione pregare è semplice come tornare a casa e mettersi in pantofole tornare in patria dopo un viaggio lontano gustare la vita alla sorgente la sua sorgente originaria la preghiera è un riposo vedremo che è anche un gran combattimento ma eh è un è uno spazio dove siamo a a casa ecco forse noi eh ne abbiamo altre esperienze di preghiera forse abbiamo iniziato a pregare perché un giorno la mamma o la nonna ci hanno insegnato le parole da dire dei gesti da fare forse un giorno abbiamo visto delle persone inginocchiarsi inchinarsi fare il signo della croce magari è nato in noi un un modo anche semplicemente ripetitivo rispetto a quello che avevamo imparato da piccoli ma poi forse non è bastato ci siamo fidati anche delle parole che abbiamo imparato che abbiamo ripetuto nelle preghiere il padre nostro l'ave maria ma forse oggi non ci basta ancora soprattutto poi mh e facciamo l'esperienza ho fatto l'esperienza con i miei nipotini piccoli no eh finché sei lì accanto al lettino gli fai dire la preghiera la dicono poi basta cioè poi quando vanno a letto da soli hanno anche smesso di pregare no da soli è più difficile facciamo anche questa esperienza prima di andare a letto al mattino è faticoso poi eh si interrompe così normalmente una vita di preghiera no? Se non ne conosci non ne capisci il gusto oppure abbiamo partecipato ai ritiri in parrocchia abbiamo pregato con la Bibbia con la parola di Dio abbiamo fatto tutti credo delle esperienze meravigliose di contatto alla parola eh ci siamo così gustate dei commenti meravigliosi e allora abbiamo deciso di leggerla tutta e ora abbiamo iniziato da Genesi e all'inizio ci piaceva pure perché i racconti eh sono oltre che così descrittivi così avvincenti poi però sono iniziate le genealogie sono iniziate le regole quelle che eh e basta cioè alla fine anche la la scrittura così ti eh ti stanca ti annoia ecco quindi eh imparare anche che cosa significa per pregare con la parola e tenteremo anche questo di farlo e poi i più ardimentosi fra di noi hanno ricevuto anche le istruzioni per pregare almeno i lodi i vespri la compieta non lo so per un po' va no poi però i salmi sono complicati poi se sei da solo non ti trovi poi oppure diventa quella routine che eh lo fai quasi per dovere perché sennò ti senti in colpa eh però poi non porta frutto nella tua giornata quante volte eh confesso no capita di non ricordare nemmeno il salmo che hai pregato alle lodi del mattino per non parlare di quello dell'ufficio del mattutino cioè che proprio si perde prima dell'alba le parole mh allora ehm ecco perché ehm la domanda ci ce la portiamo sempre dentro no legata alla parola di Paolo che dice pregate pregare incessantemente e noi ci chiediamo con tutti i nostri metodi con tutti i nostri strumenti ma è possibile mai pregare incessantemente cioè vivere in questo stato di eh preghiera ed è davvero così importante farlo perché eh sarebbe interessante almeno per me per poter andare avanti in questi pochi incontri che abbiamo davvero raccogliere le vostre domande sulla preghiera perché credo ehm che qualche siate tutti stati in qualche modo formati alla preghiera abbiate qualcuno senz'altro anche più di me esperienza di ehm di preghiera o di qualche forma di preghiera e sarebbe interessante sapere quali domande vi ha aperto nel cuore ecco forse eh la stessa che è stata aperta nel cuore dei discepoli quando vedevano Gesù pregare no? Voi sapete che ehm a Gesù i discepoli chiedono insegnaci a pregare e lui non gli spiega la preghiera non gli fa un corso di otto incontri sulla preghiera e Gesù li mette a pregare insegna una preghiera ma eh li fa pregare ecco a pregare si impara pregando come eh a nuotare si impara nuotando cioè non puoi leggere un manuale sul nuoto e e poi fidarti di buttarti in acqua ti devi buttare imparare un po' da naspare poi fidarti del maestro e poi eh fino alla fine questo accade così per amare non esiste il manuale dell'amore che puoi imparare e studiare prima di innamorarti eh ad amare si impara amando e sbagliando ecco ehm quello che Gesù eh fa e farà con i suoi discepoli quello che la scrittura fa con il popolo di Israele insegna a pregare pregando e così anche il Signore ecco quindi mh quello che forse eh potrebbe mh aprirsi dentro di noi è questa domanda no ma ho questa domanda ho voglia di ehm chiedere al Signore che mi insegni a pregare c'è qualcosa che mi incuriosisce di questa preghiera di Gesù che voglio anche io questo accade quando eh vediamo qualcosa di bello e lo vogliamo per noi questo è accaduto alla vita dei discepoli hanno visto evidentemente una bellezza nella preghiera di Gesù che li ha mossi finalmente a fargli questa domanda ma noi vogliamo stare così anche noi come stai tu con il padre anche noi vogliamo pregare così questa è una cosa bellissima la vogliamo per noi la voglio per me ecco forse in questo tempo dovremmo farci lavorare da questa domanda mh che ehm se ci interessa perché mh altrimenti eh possiamo farne a meno possiamo dedicarci ad altro ci sono tante cose eh che potremmo approfondire ma se questo veramente lo vogliamo e possiamo eh approfondirlo ecco il l'ultima cosa in questi pochissimi minuti che appunto chiedo Venia ma Don Andrea volevano essere solo introduttivi e vorrei dire questo che è anche una cosa che ritengo molto importante mh il catechismo in questo bellissimo trattato eh sulla preghiera che è il più bel trattato mh spirituale non non lo immagineremo mai che al termine di questo libro un po' eh così nozionistico ehm così eh di incontrare delle parole delle pagine così belle sulla preghiera e quindi se posso dare dei compiti per casa bisogna andare a leggere l'ultima parte del catechismo della chiesa cattolica ma ehm dice nel 2558 dice che la preghiera è una relazione una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero eh boom questa è una espressione col botto eh di quelle proprio forti eh perché ci riporta alla vita tutto ciò che è vivo brulica fermenta cresce cambia ha a che fare con la relazione con qualcun altro finalmente non solo con noi stessi quindi si tratta di una relazione parla della preghiera ed è una relazione ogni relazione lo sappiamo ha un momento in cui comincia ecco nella relazione con Dio ehm questo è splendido e vorrei che ce lo sigillassimo nel cuore la relazione con Dio inizia subito con l'uomo ma inizia subito dopo il peccato la prima parola che eh Dio rivolge all'uomo nella scrittura è una domanda Adamo dove sei? Noi siamo abituati a leggere eh questa espressione di Dio con un tono severo dove sei? Ora io lo so che hai peccato dove ti sei nascosto no? E sentiamo subito questo sguardo severo di Dio su di noi e vorremmo sfuggire questa domanda e piuttosto l'invito che vi faccio è quello di avvertire non già come un rimprovero questa parola ma come eh il tono di che un padre usa quando cerca suo figlio quando l'ha eh si è voltato un attimo e l'ha lasciato e non lo trova più la preoccupazione di chi ti ama e vuole sapere dove sei finito perché vuole stare con te e non gli interessa come sei non gli interessa se hai l'hai combinata in qualche modo no? E dobbiamo subito levarci dal cuore eh questa amara e pagana pagana paganissima convinzione che per stare in relazione con Dio dovremmo essere puri pronti aggiustati in qualche modo come se eh la preghiera fosse possibile soltanto se con delle condizioni il punto è è una rovesciata incredibile perché non scopriremo spero in questi giorni che non sei tu che vuoi pregare ma è Dio che vuole incontrare te è Dio che ti cerca la preghiera è questo è Dio che ti viene a cercare che vuole te vuole stare in relazione con te e la preghiera di ogni giorno è il tentativo balbettato che ognuno di noi eh così pronuncia di rispondere a questa domanda dove sei? Ma signore sono qui oggi è successo questo è accaduto quest'altro sono qui dentro una sofferenza enorme sono qui dentro una gioia ti benedico per quello che mi ha regalato sono qui i tentativi di risposta a cui piano piano dovremmo allenarci ecco devono sempre tenere eh presente e questa iniziativa di Dio ribadita da Giovanni ehm sottolineata da Paolo Dio eh per primo ci ha amato quando eravamo peccatori non quando ci siamo confessati ma quando eravamo peccatori per primo forse prima la relazione ci racconta Genesi era più immediata no? Lo comprendiamo quando leggiamo che Dio stava passeggiando nel giardino e cerca l'uomo no? Quindi forse erano andati a passeggio insieme altre volte ora però ora che c'è questa ferita in ognuno di noi Dio ci cerca quotidianamente insistentemente allora la preghiera è semplicemente questo lo voglio dire la nostra risposta a questa ricerca di Dio e ci eh a questo ci dobbiamo in qualche modo rassegnare noi non non è un'azione di muscoli non è un'azione di forza di volontà non è un'azione di eh decisione no? È un'azione di resa la preghiera è arrendersi a qualcuno che ti cerca come quando da bambino giocavi a nascondino e venivi fuori perché non ti trovavo non ti trovavo non ti trovavo è rimasto solo te nascosto e il gioco non era più divertente allora la preghiera è questo finalmente arrendersi a questo sguardo eh di Dio che vuole stare in relazione con te e spero mh con tutto il cuore che questi incontri e mh ci portino a questa convinzione a questa serenità a questo riposo e a questa casa che è la casa di Dio che è finalmente questa relazione eh con un padre che ci ama con un figlio che ha dato tutto quello che che aveva perché eh potessimo conoscere questo padre attraverso lo spirito che ancora e ancora soffia eh nel nostro cuore per tenere vivo questo desiderio di stare in relazione con Dio ecco i miei minuti sono terminati bene grazie surfulbia ehm dato che hai detto che ogni incontro ha una parola la parola di oggi è facile la parola di oggi è semplicità semplicità ecco e questo sarebbe da scoprire e la scopriremo la parola di Dio è in Genesi Adamo dove sei ottimo quindi semplicità è Adamo dove sei poi vedremo tutte le altre se riusciremo ecco però bene allora per accogliere l'invito di surfulbia delle di fare domande sulla base di quella che è la vostra esperienza e quindi anche eventualmente le vostre ehm i vostri dubbi le vostre difficoltà oppure le cose belle che avete già eh scoperto e sperimentato potete sia usare la chat eh durante gli incontri e noi ci copiamo poi i messaggi oppure se vi viene in mente in un altro momento ci scrivete una mail a ufficio catechistico diocesidiroma.it nell'oggetto mettete per surfulvia così noi poi le raccogliamo e gliele mandiamo a surfulvia va bene? Sì per me sarebbe molto molto utile perché per centrare no? Eh anche le attese di di ognuno per quanto possibile. Certo. Bene. Allora grazie mille. Grazie mille a surfulvia. Grazie a tutti ci vediamo la prossima settimana giovedì prossimo. Grazie buonasera.